Una canzone recitava, è solo una terapia, è solo una terapia. Qua Giovanni Lindo Ferretti non c'entra, ma c'era Omea Gresti. Ciao Rom e bentornato. Sei un professionista serio, perché ti prepari anche le intro. Meriti tutto il seguito che hai. Grande gancio, grande gancio Giovanni Lindo Ferretti. Allora, allora, io ho visto le reazioni e non so neanche da dove partire. Pensavo per chiamare l'ambulanza, pensavo che avessi avuto un colpo, mi hai spaventato. Perché non so neanche da dove partire. È una di quelle cose, di quei video, che stappi ed esce tutto. Per cui ho paura a stappare perché non so neanche da dove partire. Allora, partiamo da ieri. Facciamo questi 10-15 minuti di analisi su ieri. Sensazioni. La prima cosa che hai pensato al triplice fischio. Alla Juve andava bene così. Cioè ho avuto proprio la sensazione che l'obiettivo era fare risultato utile. Ovviamente scendo in campo sempre per provare a vincere. Ma soprattutto ho visto la squadra che ha pensato principalmente a non prenderlo. Il gol, alla fine. Anche se poi è rischiato. Perché poi, no, quando ti abbassi, ti abbassi, ti abbassi. Quando magari all'ottantasettesimo è stato perfetto difensivamente. Capita l'errore che fa Gatti. Che fa un macroerrore. Perché individualmente quello è un errore enorme. Però non vieni punito da Copp che questa volta aveva la mira un po' più sballata rispetto ad altre uscite. In generale ho avuto questa sensazione. Che seguendo quasi una tabella chirurgica andasse bene il punto. Infatti credo che l'unico brindisi che sia stato possibile ieri sera è alle polveri bagnate di Coop Mainers. Perché sbaglia da situazione favorevole. Però sì, essenzialmente credo che sia questa la sensazione che tutti abbiano avvertito a fine partita. Di una Juve che è andata là per accontentarsi del pari. E credo anche quindi che la frustrazione del tifoso sia giustificata. Non so se hai visto delle reazioni, dei commenti nel post partita. Forse anche troppo vementi, certe. Però io il malumore del tifoso mi sento di condividerlo. E di provarlo anche da tifoso. Guarda, io per questa stagione ho adottato un atteggiamento molto zen. Come ben sai, come spiego settimanalmente a Juventibus e in generale sui miei canali. Io ho in testa il fatto che questa squadra sicuramente potrebbe giocare molto meglio. E secondo me il vero neo di Bergamo è il tono remissivo. Perché ci sta la difesa posizionale. Io mi aspettavo esattamente quella partita che abbiamo visto. Però devi essere anche... Qualcosa in più davanti. Devi essere più coraggioso. Anche perché l'Atalanta ieri nella ripresa a un certo punto ha alzato molto il baricentro con i braccetti. Con Toloi, quando è entrato con la Zinac. Quindi cosa significa? Che con coraggio le tue occasioni te le crei automaticamente. Non te lo metto neanche in stato dubitativo. Cioè, dal momento che l'Atalanta alza così tanto il baricentro, tu se sei coraggioso, se sei un po' anche preciso, perché nelle ripartenze lo devi essere, qualche occasione te la crei. Quindi da questo punto di vista io concordo totalmente con i tifosi infastiditi quasi dall'atteggiamento della Juve. Però il mio atteggiamento zen mi porta proprio a dirti... Cioè, mi aspettavo questo. È un'annata dove tutto ciò che sta accadendo, che è già accaduto in queste prime sette giornate, corrisponde a ciò che mi aspettavo. Cioè, magari delle belle partite come quella contro la Lazio. Magari dei blackout inspiegabili come quello di Reggio Emilia. Partite mezze e mezze. Partite brutte. Lecce? Sì, ma anche il primo tempo col Bologna. Cioè, onestamente io mi aspetto questo. Guarda, ti dico, da tifoso sai quale credo la delusione più grande? Non per la partita di per sé. Perché se è una partita che è un incidente di percorso, un qualcosa di estemporaneo, va anche bene. Ma c'è in realtà il pensiero, come hai detto tu, hai questo approccio zen, perché sai che l'andazzo di questa stagione è esattamente così. E la delusione più grande credo che per il tifoso sia stata quella di vedere alcune innovazioni, piccole, non nulla di stratosferico straordinario, messe al bando in queste ultime due partite. Cioè, Lecce e Atalanta hanno in continuità un atteggiamento, la passività, zero presenza di riaggressione. È stato mollato proprio quel concetto perché credo che nella testa dell'allenatore sia andato anche un meccanismo di protezione nei confronti della squadra. Col Sassuolo, quell'atteggiamento ha portato la Juventus a soffrire in determinate situazioni di transizione negativa. Evito questo andazzo qua, evito questa riaggressione esagerata che spesso porta a scoprirci e cerco di portare a casa il risultato. E anche gli stessi calciatori, aggiungo. Perché poi... Cesni lo dice, no? Secondo me quando tu fai calciatore più, calciatore meno, squadra rivista, rivisitata un pochettino, però quando tu fai, questa è la terza stagione, un certo tipo di calcio, succede quello che accade a Reggio Emilia e poi qual è il proseguo? Che ti spaventi a morte con il Lecce. Io l'ho detto, nel primo tempo ho visto il terrore negli occhi di molti calciatori. Il terrore è motivato perché io, guarda, continuo a pensare, sebbene Allegri non sia del mio parere, l'ho spiegato più riprese, che per me è finora il miglior primo tempo, al di là della sfida con la Lazio, è stato quello di Uile. Perché io accetto anche di prendermi l'uno contro uno con Beto, a patto però che le occasioni offensive siano sette, otto, cioè se vado a produrre tanto, accetto anche di rischiare tanto. Per come la vede il pirla di Romeo Agresti, eh? Poi Allegri dice, no, quella partita a me non era piaciuta perché nello specchio abbiamo ricevuto quattordici tiri. Sono, questo è il magnifico, come tu hai detto una cosa molto bella nel tuo video, io i tuoi video non li guardo mai, ma quello di ieri l'ho visto, scherzo. Tu hai detto una cosa molto chiara, il manifesto Allegriano, la partita di Bergamo ed è così, cioè quando non vinci, quando non puoi vincere, o comunque non crei presupposti per vincere, non devi perdere. Questa è una frase che Allegri ha detto più volte e credo che anche lo stesso Gatti abbia fatto questo esempio ieri, se l'ho letto bene. Sì, 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 è così, è così. Io ti chiedo, c'è una discussione che a me dà un po' fastidio tra noi tifosi perché c'è chi va a prescindere contro l'allenatore e lo critica e chi lo difende d'altro canto da contro il livello della squadra che, insomma, ritenuto inadeguato per certi obiettivi. Qual è la tua idea sul valore reale della Juventus in questo momento tra l'allenatore e Rosa? Allora, la Rosa, l'ho già detto, ho preso delle critiche ma lo ribadisco, per me non vale il primo posto, cioè ci sono dei limiti qualitativi, strutturali, tattici, mentali, che portano, a mio modo di vedere, le due milanesi essere ben più di un gradino sopra, ma io ti dico anche il Napoli. Infatti il Napoli le ultime due ha già giocato meglio, eh? Sì, sì, sì. Il Napoli se si inizia a settare Garzia non Garzia ha comunque due fenomeni come Kvara e Osimen che là sopra ti portano, di riffo, di raffo ti portano. Detto ciò, io sono il primo a aspettarmi minimamente che la Juventus lotti per lo scudetto e infatti sono molto un atteggiamento zero. La gente mi scrive, non ti arrabbi, cioè io mi arrabbio se penso di essere settato per lo scudetto. O comunque se vedo delle partite molto brutte, io per esempio, togli quella di Berber, a me quella con Lecce non è piaciuta minimamente, la gente mi ha criticato. Uguale, uguale, uguale. Quella per me è una prestazione inaccettabile, quella con Lecce. Empoli? Beh, là comunque è un pochino di più, però quella con Lecce a me proprio non è piaciuta al di là del primo tempo di Colbologna o in generale di Bergamo. Però, per venire alla tua domanda, c'è anche modo e modo di non competere. Nel senso, io non sono in grado di vincere lo scudetto, ma devo provare in qualche modo a rimanere in scia. Se ci ritroviamo, adesso vediamo cosa succede a ottobre, novembre, e già a livello di percezione, fuori dalla lotta, quello non va bene. Però, in generale, io mi aspetto una squadra per la riconferma di Allegri, per com'è avvenuta, per il mancato mercato, per i calciatori che ci sono attuali, mi aspetto una squadra che lotterà per la terza, ma la quarta piazza. Questa è la mia percezione. Intanto, la qualificazione in Champions credo che sia fondamentale, poi ti farò una domanda anche a proposito di questo, ma ti dico e ti chiedo, ora abbiamo comunque Derby e Milan. Derby, pausa, Milan. Esatto, Derby, pausa, Milan. Che peggio, perché banalmente sarebbe stato meglio avere Milan, pausa, Derby, che non Derby, pausa, Milan. Certo, poi vabbè, questa pausa, poi se penso, guarda, sono già stufo di quella di novembre, perché poi per chi non lo sapesse c'è un'altra. Infatti me ne vado in Trentino io, questo finiscono la pausa, col cazzo che rimango qua a patire guardando la Nazionale. Me ne vado in Trentino due giorni. No, scappo. Io quando ci sono le pause della Nazionale devo scappare, altrimenti esco scemo. No, però ti chiedo, cosa ti aspetti da queste due gare? Sono due gare che arrivano in momenti differenti. Vi ripeto, sarebbe stato meglio avere il Milan subito perché hanno la fatica della Champions contro il Borussia Dortmund, un eventuale risultato negativo compromette già la qualificazione, crea ansia, no, anche internamente. Se comunque vincono, hanno speso tanto sul piano emotivo-morale, sarebbe stato quasi meglio, no, trovarli subito. Invece li troviamo dopo la pausa e questo un po' mi fa paura. Ma sai, quella partita è molto lontana, eh. 22 ottobre? Non si può fare un pronostico su una partita che giochi quasi tra un mese, cioè, di cosa stiamo parlando? Chiaro che oggi ti potrei rispondere il Milan è più forte della Juve, il Milan è più squadra, il Milan, il Milan, il Milan, ma non lascerebbe il tempo che trovo. Col Toro, guarda, il mio terrore è legato alla Cabala, perché il Toro non vince un derby in casa della Juve 94-95. Sì. E, sai, l'ultimo derby che hanno vinto è quello con Ventura, con i gol di... Darmiano. Darmiano e Quagliarella. Quindi ti dico... La Juve che aveva già vinto lo scudetto, anche. Per la legge dei grandi numeri, prima o poi il Toro tornerà a vincere una partita dei cugini, in casa dei cugini. Toro è anche una squadra un po' strana, eh, perché ha un'identità ben definita. Avrà anche una defezione importante, buongiorno, che è un giocatore fondamentale per loro. Però Juric, con tutti, va mille. Cioè, casa fuori, pressa tutto campo, con i suoi limiti. È una squadra che ha zapata e quindi farà qualche gol in più. Radonic, Blasic, hanno un po' di creatività. Insomma, Sanabria aveva fatto un gol pazzesco, eh. Allo stadio. Allo scorso. Quindi ti dico, sai, anche qua, non voglio scadere nella banalità, perché i derby sono davvero partiti a sé. Però così è. E soprattutto sarà una partita dove il Toro andrà di intensità. A grande intensità. Bisogna avere la loro stessa intensità. Sono d'accordo. Adesso poi sarà importante cercare di recuperare Vlaovic. Hai notizie da questo punto di vista? Ah, vediamo. Guarda, ti dico la verità. C'era ottimismo anche prima di Bergamo e poi non è partito. Quindi vediamo un po'. Su Milik credo che dubbi zero. Andrà quantomeno in panchina col Toro. E vediamo la settimana di Duzan. Chiaro. Quindi, vabbè, speriamo di recuperarlo, perché in ogni caso anche in casa. Poi torna anche la curva. ci sarà un altro ambiente per quella partita. Quello sposta, eh. Esatto. Sarebbe già una cosa interessante. Ti faccio la domanda. Tu hai parlato di una rosa che non è all'altezza, ovviamente, delle prime dal primo posto. Cioè, una rosa che può competere per le prime 3-4 posizioni per andare in Champions League. Bene. E per me ci andrà agevolmente. Ah, bene. Magari mi sbaglio, ma ho la sensazione. Speriamo di non tribolare, speriamo. Io non ne sono convinto. No, beh, ma per... Tu su chi fai questa corsa? Sulla Atalanta? Sulla Roma? Sulla Lazio? Io sul Napoli. Però per esempio... No, beh. Io ho il Napoli. Inter. Milan. Napoli. Juve. Lazio-Roma. Io... La Roma un po' la temo, ma ci metto l'Atalanta. No, no. L'Atalanta è quella più accreditata, secondo me, in fastidia. Solo che l'Atalanta banalmente è la squadra che ti cade nelle partite che tu non diresti mai. Poi, Roma e Lazio hanno già maturato un discreto ritardo, eh. Quindi... Eh, esatto. No, ci sta questa tua preoccupazione. Però ti chiedo, a gennaio... Gennaio? Sì. Ipotesi è pur parler per giocare. Vi sto riparlato della qualità della rosa. Andiamo avanti con il campionato e siamo a cinque punti dalla vetta. Molto ottimistico il buon Colpo Gobbo. Molto ottimistico, ma ipotizziamo che la realtà di fatti e la fotografia della classifica sia questa qua. Mi piace quando parli in terza persona. Vero? Proprio bellissimo. Colpo Gobbo perché il personaggio, Antonelli Cursu, lo sa che non accadrà così in realtà. Siamo lì al cinque, sei punti dal primo posto. C'è la possibilità e la società dice oh, possiamo spendere qualcosina per cercare di aggiustare la squadra per giocarcela fino alla fine. Dove intervieni? No, io ho già un giocatore chiaro che vorrei alla Juve. Samar Zic. L'ho visto anche quando è entrato ieri contro il Genoa. Ma si vede che questo ragazzo a livello tecnico ha molto, molto di più rispetto alla media. E siccome è ancora un calciatore, secondo me, prendibile, Samar Zic è il primo rinforzo, l'unico rinforzo che farei. Quindi, centro campo, perché poi potrei stare qua dietro. Sicuramente anche in difesa, in estate, va fatto qualcosa. Io penso a un mancino puro dietro. Puoi capire. Il non utilizzo di Usain ti delude? Ah, in questo momento forse anche meglio così, eh. L'ho detto anch'io. Oggi un ragazzo mi ha scritto, ma come? Non so se è meglio metterla in questo tritaccarne in questo momento. Io ci rifletterei bene. Non trova spazio. Ealing. Ealing ha disputato 89 minuti in sette partite. Ma ieri sai perché non l'ha messo? No, perché voleva... Perché torniamo al discorso che hai fatto inizialmente. Per difendere? Eh, tra Kostic e Ealing, chi metto se voglio portare a casa il pareggio? Se non voglio provare neanche a vincerla? Metto Kostic. Mi tutela di più difensivamente. E d'altro, in questo avvio di stagione, non so se stia pagando il mercato, il fatto di aver giocato le prime due, ma Kostic non mi sta piacendo per niente. Manco Bugaz. Anche ieri... No, ma lo vedo proprio spento mentalmente. Sì, 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 spento mentalmente. Io ho la sensazione che aver valutato anche le situazioni di mercato sul suo conto lo abbiano un po' demotivato. Sai, quando tu ti senti la... Tra virgolette la stella, Kostic... È un giocatore importante comunque della squadra. La stagione è stata uno dei migliori. Quando ti vedi, a un certo punto, le prime due non le giochi. L'USM fino alla fine ha provato a prenderlo, però in prestito. Dai, alla fine, secondo me nella tua testa iniziano a scatelarsi dei meccanismi che ti fanno perdere... Non di concentrazione, perché questi sono professionisti, però proprio di rendimento. Chiaro. Ti faccio invece la domanda al volo, così. Si vocifera di una superlega targata UEFA. hanno copiato il modello... Quella di visito i gruppi, no? Sì, esatto. Una piramide, no? Con una serie A, una serie B, una serie C, insomma, dell'Europa. Per il 2027 si parla, è come termine. Che idea ti si è fatto? Io ho un'idea di base. Che per me si deve giocare di meno, non di più. E più partite di qualità, meno partite... Più qualità... Più qualità... E meno partite domicchia, sono d'accordo con te. E invece non si sta andando in quella direzione, tutt'altro, perché il mondiale per club, eventualmente la superlega, ragazzi, che ce ne abbiano detto, che che ne sia successo con Andrea Agnelli, ma quella è la strada. Non è la... L'ECA sta buttando dentro questa proposta e la vogliono fare nel 2027. Cioè, le prime 17 squadre del ranking con le quattro retrocesse, eccetera. Significa che vuoi creare veramente un buon livello. Il modello è quello, ma è anche un discorso di sostenibilità per i top club. Perché... Ma l'avevamo già capito. Poi io credo che il vero problema della superlega in formato Andrea Agnelli e quant'altro sia stato soprattutto la comunicazione, non l'idea in sé, che poi, vabbè, c'erano delle cose da smussare, aprire un po' di più, ma quello sta la comunicazione, gli annunci a mezzanotte, quant'altro. Però, di riff o di raffa, il futuro sarà quello. Non sarà il nome superlega, cambierà un po' il nome. Quello, eh. Ma già il mondiale per club, la direzione è quella. Bellissimo, eh. Se ci arrivassimo, tocca guffare le altre italiane in Champions. è tosta. Ho visto la questione del ranking. No, ma l'anno prossimo se la Juve si qualifica, fa un bel percorso, può comunque sperare se cadono prima Milan e Napoli. Eh, devi sperare nelle disgrazie altrui che non è mai una cosa bella, però purtroppo siamo in queste condizioni. Parla per te da giornalista. Per me è una cosa bella se cadono. No, intendevo. Non è una cosa bella a livello di progetto, perché tu non puoi fare affidamento sul tuo cammino. Ah, sì, sì. Quello senz'altro. Cioè quando le cose non dipendono da te ma dagli altri, è sempre un casino. Sono d'accordissimo su questo, nulla da eccepire. Rome, io ti ringrazio per questi 20 minute fatti all'indomani che sono sempre super graditi, vedo tanti commenti positivi. Ovviamente, ragazzi, non c'è bisogno di dirvelo mille volte. Nel tag della descrizione e nel titolo trovate Romeo, iscrivetevi al suo canale Qualità, notizie in tempo reale in ambito Juve, mi raccomando. Grazie Rome. Grazie a voi, ciao a tutti. Ciao belli.